La dismorfofobia è una monofobia molto diffusa. In alcune situazioni le persone non arrivano ancora effettivamente a chiedere aiuto da un punto di vista di terapia e di psicoterapia. Affrontano questo loro problema, questo loro difetto, questo loro aspetto fisico che non fa star loro bene ogni giorno, vivendo una vita dove la qualità della vita nelle relazioni si riduce molto. Per anni ho seguito una ragazza che aveva delle difficoltà dal punto di vista alimentare e che nel tempo aveva poi cominciato a sviluppare una vera e propria paura nei confronti di alcune parti del proprio corpo, i fianchi, le gambe e un difetto che lei viveva come eccessivo soprattutto per paura che gli altri la potessero giudicare. Così si guardava sempre allo specchio che aveva difficoltà nel momento in cui prendeva o perdeva un chilo nel mettersi i pantaloni perché questo le ricordava, specialmente quando magari c'era un chilo in più, che purtroppo la propria forma fisica era cambiata. E quindi questa cosa la preoccupava nella misura in cui da un punto di vista di relazione sociale questo poteva incidere non poco. Quindi ha vissuto per tempo questa sua difficoltà nell'accettare il proprio corpo. Nella dismorfofobia c'è proprio una paura che porta a vivere livelli di stress molto importanti focalizzandolo su una o più parti del corpo e solo attraverso un percorso nel caso precedente è stato possibile superare questo tipo di paura e cominciare a vivere le relazioni diversamente. La terapia breve strategica offre delle modalità come ad esempio strategie come ad esempio il check corporeo e molte altre di gestione anche della paura che possono essere veramente fondamentali per la persona per imparare nuovamente ad accettarsi e per imparare nuovamente a stare all'interno delle relazioni con le altre persone con una maggiore serenità. Contattami al 340 4190 915 oppure scrivi una mail a studiochiocciola guido da qtpsicologo.it per iniziare il tuo percorso di cambiamento. Grazie e a presto.